Il salone nautico di Brindisi Il salone nautico di Brindisi Vuole dimostrare che la Puglia nautica esiste ed è ad altissimi livelli Prima novità l'ingresso completamente gratuito E non ultima la location Lungomare Regina Margherita A significare il rapporto di simbiosi tra l'evento e la città Io repolo che sia una bella occasione per tutti i pugliesi Per venire a trascorrere una giornata a Brindisi In uno spettacolo eccezionale sul lungomare Ma soprattutto con la qualità del lavoro svolto nel salone nautico Le aree tematiche distribuite negli stand vanno dalle imbarcazioni in acqua Alla portualità turistica, dagli accessori nautici alla ricerca e all'innovazione enogastronomica In più gli incontri B2B, ovvero la domanda incontrerà l'offerta Con un'attenzione particolare agli imprenditori turchi che saranno allo SNIM È abbastanza rilevante perché il mercato turco è attrattivo In quanto i nostri prodotti sono apprezzati, il made in Italy è apprezzato E c'è una crescita dell'acquisto di prodotti pugliesi Quindi siamo particolarmente contenti di accompagnare questa fiera Ambiente ed ecosostenibilità, sport acquatici, pesca, gastronomia, settore subacqueo Ancora l'esposizione delle 40 imbarcazioni a terra Gli amanti del mare, che lo siano per professione o per diletto, dal 29 maggio potranno immergersi nello SNIM Per soddisfare la loro voglia di novità